. Specializzato in frapponta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, anche speciali, per la provincia di Venezia. In gente di spiegamento di mezzi sul posto una decina di squadre di vigili del fuoco, oltre che gli ispettori dell'ARPAV e il sindaco della città del Piave, Andrea Ceresia. L'allarme è scappato nel momento in cui il fuoco ha iniziato a propagarsi a un intero capannone da 5.000 metri quadri all'interno della vita, situata in località Chiesa Nuova. In corso accettamenti per capire cosa materialmente si trovasse nell'immobile, mentre i pompieri sono stati impegnati per arginare il fuoco, particolarmente violenti attracchi. Le operazioni sono durate per tutta la nottina. Chiudete le finestre allo spoccare della mezzanotte tra lunedì e martedì non erano state segnalate problematicità dall'ARPAV, ma le istituzioni preditano cautela Un incendio si è sviluppato in un capannone tra Chiesa Nuova e Passarello. Ha dichiarato sul social il sindaco Andrea Ceresia. I vigili del fuoco stanno lavorando a pieno regime per estinguere le fiamme. Si raccomanda tutta la popolazione di San Dona e dintorni di riparare i luoghi chiusi con le finestre serrate, visto che dal capannone esce un fumo denso che viene spostato dal vento. Impegnati 40 operatori circa, provenienti da Mestre, Porto de Ruano, San Dona e Moppa di Livento. Grazie 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 Grazie